Parliamo di Sanremo, stasera c'è la premiazione dei giovani, chi vince? Ha seguito? Sì, adesso non mi ricordo, quel ragazzo di Amici comunque Nigiotti, Cuzzo, poi... Nigiotti si chiama, vero? Non dovinato? Enrico, mi sembra Enrico Nigiotti Esatto E invece tra i big chi vince? Ah, Moreno Moreno addirittura, però non è tra i favoriti Mi sembra... A me piace moltissimo Ha fatto una bella canzone, quella di Adriano Celentano Che è una carezza in un pugno Un pugno, esatto Oppure mi piace, grazie a Di Michele Con Platinette Chiamiamolo Mauro e qualcosa Anche quella non è favorita, però per me sono bellissime Ma appunto ieri NEC ha vinto le cose Sì, esatto Bravo NEC Io Franco Nero l'ho conosci, no? Sì È vero che somiglia tantissimo a Franco Nero Sì, è vero È una battaglia per la somiglianza di NEC a Franco Nero Vogliamo fare un test del DNA No, no, uguali Però stai somigliano molto e sono belli, sì Benissimo Mi ha detto un po' tutto Questa conduzione, com'è andata quest'anno? Conti e le vallette là? Sono belle Si ha arisa, un po' persa però Persa, persa E invece l'altra Emma Marrone Emma mi piace tantissimo Però un po' spaisata E vabbè, però ci sta Stanno bene insieme I vestiti, le scenografie Sì, no, tutto bello Tutto bello Benissimo Allora, chi vince abbiamo detto L.I.G. Moreno Moreno Che confusione Grazie Grazie a te, salve Grazie Grazie